Fermato a novembre, dei carabinieri a Campodarsi con 47 anni senza patente aveva promesso di portare il documento in caserma. Al momento di firmare il verbale della multa però aveva fornito il nome e cognome del fratello. L'uomo infatti da sei anni aveva la patente sospesa. I carabinieri, dopo aver atteso per giorni che si presentasse con il documento, lo hanno contattato ma al telefono ha risposto il fratello, ignaro di quanto era accaduto. Scoperto il fatto, i carabinieri hanno denunciato il 47enne.